Ciao, sono Yurikeiki. Passavo di qua e mi sono fermato all'Olimpia di Vancouver. Se mi prendi il profilo, ho il nasone, non è bello, capito? Di fronte, se mi prendi dal basso, sembra che mi slancio un po', vedi, vedi? Eccomi qua. Aspetta, c'ho perdito il naso, però. Ecco qua, ma che schifo, ma che schifo, dai, vai. Eh, Canada, yeah, go, Canada, go. Siamo a Vancouver e io vorrei dare una notizia a tutti gli amici di Freddy.it. Mi sono fidanzato. Mi sono fidanzato con questa donna meravigliosa che tutti avrete riconosciuto. È Karen Puzzer, una grande sciatrice. Ci ho provato dal 96 e oggi mi ha detto di sì. Con Karen facciamo una gosseggiatina verso il centro di Whistler e lei ci racconterà qualcosa dello sci alpino. Brava lei, anche bellina. Meno male ci siamo fidanzati oggi. Sei sposata lei? Sei fidanzata? Sì, come no, sì. Hai sbagliato, sei fidanzata? Sono tristissima. Ma come? Cioè, ti sei fidanzata con me o sono tristissima? No, infatti di perfettuna sarebbe stato. Aspetta, che adesso mi sono un po' ripreso. T'ho migliorato. Cioè, ti sei lasciata oggi con fidanzato? No. Ieri? Ragazzi, ho fatto una figura di merda spaziale con la Karen Puzzer perché ho fatto lo scemo, lo splendido, no? Ho fatto i fidanzati. Chiaramente siamo amici e mi pretevo di farlo, ma evidentemente non era nel momento giusto, nell'altra giornata adatta. E quindi ti chiedo Venia per questo, scusa. Cioè, ti sei lasciata ieri, eh? Sì, non tanto giù di morale. No. No. Fai finta. Però sei triste dentro, vero? Ti fa male qua? No. No. Niente, non si riesce a entrare dentro la vita privata di Karen Puzzer, ragazzi, è una roba... Andiamo a share insieme una volta. Andiamo. Ti prego, ora a parte gli scherzi così mi insegni un po'. Mi fai la maestra. Io? Sì, seriamente. Quanto costa? Ah, mio. Ah, mio. Facciamo alla pari. Cioè, io mi concedo a te, cioè, io mi do quello... E te... Ti impegni? Esatto, capito? Eh, va bene. Ragazzi, non me la daranno neanche per idea, Karen Puzzer, vabbè, vabbè, però va meglio così.